La scelta di Giorgio La felicità per il vincere del vincere Hai l'impressione di questo match? Cosa? Hai l'impressione di questo match? Il match non è così facile come vedete il scelto quindi ho fatto più di più sull'interno e poi vincere e anche se è bene in questo match L'ultimo novembre per te la semifinal in Italia ora la finale è un paese per te un paese l'Italia? Non credo non credo ma ho spavato molti torrenti in Italia e questo è il mio migliore risultato in Italia ma per l'ultimo tempo è un paese un paese per me Grazie Buongiorno Grazie